Partiamo dalla famosa vicenda del gelato di Pisapia, dell'ordinanza comunale che voleva vietare il gelato a passeggio dopo la mezzanotte, per parlare dell'estate che arriva e, come tutte le stati, le ordinanze dei sindaci, queste maledette ordinanze dei sindaci a proposito della Movida. Insomma, c'è appunto l'ordinanza di Pisapia, poi in realtà è stata cambiata, il divieto parte dall'una di notte, c'è un divieto contro la Movida che riguarda in particolare gli alcolici e la musica che è stato barato a Palermo, ne parleremo tra un attimo, ne sono in vigore altri, ce ne sono in vigore per esempio anche a Roma, è stata rinnovata di recente l'ordinanza.